Uh! Savic! Gol della Lazio! Doccia gelata sul Milan, Lazio in vantaggio dopo 4 minuti, Tiziano! Milinkovic, Savic dalla destra, dove era? Dove era Teo Hernandez? Va sul fondo, mette al centro e sbuca a centro area e mette dentro sotto misura Ciro Immobile. 1-0, Tomori, Tomori, dov'era Tomori? No, Leao, si libera bene! Leao, dai! Oh, che sì! Leao si libera bene subito dopo, anche che sì, Tiziano ha avuto una bella occasione. Sì, si è girato bene, prima Leao si libera bene in area, poi prova il tiro, suo sinistro è fuori di poco. Azione successiva, 30 secondi dopo, di che sì, ma il suo tiro è morbido ed è facile per Acoscia parare quella conclusione di che sì. Vedo delle braccia che si alzano, a occhio che il Milan si lamenta per un rigore. Fallo di mano, lamentano. Diaz si lamenta da morire, 3 o 4 giocatori hanno alzato immediatamente le braccia, da capire nel replay che cosa è successo adesso. Fallo in attacco per il Milan, ma attenzione perché si deve tornare indietro, c'è un silent check. Il braccio è attaccato al corpo, questo braccio non è attaccato al corpo ragazzi, però scusate, il braccio è aperto. Il braccio è così, il braccio è aperto, la distanza è estremamente ridotta, a termini di regolamento, li abbiamo visti dare questi rigori. Poi dopo può essere, può non essere, però li abbiamo visti dare. In questo caso non viene dato rigore e si riparte con un calcio di punizione per la Lazio. Non hanno confuso così tanto le idee su questa norma. Massimo, rigore? No, no, ha ragione Marcello, hanno confuso talmente tanto le idee, perché qui Speraccio non mi sembra attaccato al corpo. L'arbitro ha picchiato prima sulla coscia. L'arbitro Marelli, quello della televisione ufficiale. Non c'entra, non c'entra l'aver picchiato sulla coscia, l'aver picchiato sulla coscia ormai non c'entra più. C'entra se il braccio è attaccato al corpo o meno, non mi sembra molto attaccato, non ho visto di dare di peggio, di rigori. Secondo me è ingiusto il risultato, perché per quello che si è visto non meritavate di stare sotto, però da dire che a me occasioni non l'ho vista nemmeno io. Milan che adesso prova a spingere, non è uscita questa palla, quindi si continua a giocare Tiziano. Sì, Calabria, Tomori che indirizza verso Mignan, da questi a Calulu. Largo sulla sinistra perché sì, ancora Calulu, imposta, avanza e verticalizza. Theo Hernandez, verticale, Leao, 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 Leao. Gol! Gol, 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 Leao, mette al centro in giro. Sempre Leao, eh. Pareggio del Milan. E Giroud la mette dentro. Leao, dov'è? Dov'è? Pareggio del Milan con Olivier Giroud. Dov'è il mio jolly? Che azione che non è che controlli parla. Il mio jolly, 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 il mio jolly. È de gol, è de gol, è de gol, è de gol. È de gol. Grazie di esistere, il mio jolly. È de gol, 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 è de gol. Chi è il jolly? Un prova a Diaz, ribattuto. Palla che ha attraversato tutto lo specchio della porta. Leao, Leao, Leao dalla sinistra. Leao, cross. No, Messias! Era libero. Piatto sinistro. No, Messias, hai mangiato un gol clamoroso. Guarda Leao. Se l'hai mangiato Messias, il gol del possibile 2-1. Adesso il Milan viaggia sulle ali dell'entusiasmo e sulle ali di Leao. Leao è scatenato. Leao, Leao, Leao. Prova il tiro, ribattuto. Entra in area Messias. Tiro. No! Tiro di sinistro a fil di palo a incrociare. Tiro a incrociare. A fil di palo Messias. Teo, Teo, Teo. No, Teo in mezzo. Teo in mezzo. Era fuori gioco. Meglio così per le tue coronarie, tizi. Non ti arrabbiare. Leao. Leao, 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 Leao. Leao, tiro. Alza sopra la traversa. Oh, Rebic, intuffo. Due palle gol per il Milan con due grandi risposte di Stracoscia. Prima su Leao e poi su Ante Rebic. Leao che adesso è uscito. È uscito, Leao. No, è una vergogna. Ha messo sale in macchiare e ha tolto a cinque minuti dalla fine e toglie Leao che è l'unico che stava facendo qualcosa di importante. No, no, beh, no. No, non si può fare questo cambio. Coramina che spinge, tizi. Teo, cross. Attenzione. Ibra. Ma. Il tiro deviato. Il calcio d'angolo. Questa era un'occasionissima. Poi poca rontorete. Non lo so se andava. Poi poca rontorete. Donali, Donali. Donali, Donali. Donali, Donali. Donali, Donali. Che gol, ragazzi, importante. Uno degli uomini simbolo del Milan. Quanto è importante. Donali, Donali, Gianno. Donali. Donali. Uno degli uomini simbolo del Milan. Tonali gol, 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 esplode l'Olimpico, sponda rossonera, il pressing vincente di Ante Revic, per i gol di uno dei simboli di questo Milan, Sandro Tonali, gol, tonali gol, corno. L'assista di Ibrahimović se non sbaglio, per tonali gol del Milan al 92esimo, Remic, 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 tonali, è finita così, è finita così, è finita così, a Roma, a Roma, a Roma, Milan batte Lazio 2 a 1, con i gol, con i gol, col gol decisivo del mio amico Tonali, tonali 2 a 1 al 94esimo, ragazzi che partita, è un Milan che non muore mai, quello che si riprende, che si riprende il primo posto in classifica a quota 74, il Milan trionfa a Roma e rimonta con Giroud e Tonali.